Paola buonasera buonasera sono con Paola la bettola qui c'è proprio una trattoria vecchio stile pistoiese si vecchia maniera dove si fa le ricette una volta le vecchie ricette contadine una volta le pistoia senta il mio amico leonardo romanelli sarebbe e sarà contento perché qui fate il quinto quarto si è il regno del quinto quarto si trippa lampredotto cento pelli anche la trippa del maiale si fa come mai questo quest'amore per questi piatti particolari di una volta una passione una passione delle vecchie ricette siamo andati a ricercare la cucina di una volta dei vecchi sapori e un po anche per identificarci per non entrare nella massa nelle cose che fanno un po tutti senta e qui cosa vi sto facendo bruciare questo è il bellettino di maiale con l'ovete finoli statiamente è la trippa del maiale e poi c'è la zuppa del carcerato questa qui siamo proprio un piatto vecchio di pistoia di pistoia si un piatto una ricetta del 1500 inventata da carcerati di saltate di mandata e questa andando invece un soffritto si che serve per la pappa al pomodoro il carcerato almeno gli ingredienti ce li dice paola il carcerato c'è tutte le frattaglie trippa lampredotto 100 pelli c'è delle verdure e c'è il pane semplicemente pane cotto piano piano che diventa una crema ora prossimamente non manca neanche tanto dal 24 al 27 aprile c'è la toscana in bocca si dove potrete gustare appunto il carcerato e la trippa fatta da noi e la sua collega invece la lucia le lucia di che si occupa in questa questa bettola ci si occupa tutti di tutte e due di tutte le cose si fa tutto in società il locale però visto invece è molto accogliente magari fossero state così le bettole di una volta in maniera ironica è una bettola moderna poi c'è anche un po di vino ogni tanto quello è buono è buono se è buono e toscano di zona pistola si si casca sul sicuro va bene io vi lascio tutto di casa nostra ai vostri piatti se non mi prontolate che ve li ho fatti bruciare e ci vediamo alla toscana in bocca grazie grazie grazie